Il mio nome è Milano, vero? Sì, è vero. Periferia, c'è la solista Milano. Ah, Milano fuori. Facciamo il loro enteggio. Ah, ok. Facciamo il loro enteggio. Facciamo il loro enteggio. Ok. Perché io fai una video. We're rendering in da Milano. C'è un po' più grande. E' un po' più grande. Pagno. Il primo stop, ragazzi. Il primo stop, ragazzi. Oh, my God. Il primo stop, ragazzi. Il primo, ragazzi. Il primo, ragazzi. No, 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 no. Sì, è quello che ha fatto! Cosa, che cosa vuole? VLOG! Scribbi! Cosa che ti ha fatto? VLOGGERISTE! VLOGGERISTE! VLOGGERISTE, TICTOKERISTE Tutti tutti! Tutti tutti! VLOGGERISTE! VLOGGERISTE? VLOGGERISTE! VLOGGERISTE! Welcome to Prada! Hi, a ti shout out sa mga family mo, taga sa Andras, Pinas. Shout out sa family ko from Pinas and from my, from, for my pamangkin who's competing for Dreammaker in ABS-CBN. Wow! Hi! Hey, Kamete, taga saan ka? Iko isang public city. Yes! I dress a St. Christ Noste. Noste? 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 Ikaw, ate! From Cavite. Cavite, okay. Shout out sa Cavite. Hello, Prami Loco! So are you there? Okay. Oh, ikaw, hi! 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 Taka saan kayo, oh! Exactly! Ay, makita nyo to ang vlog sa Bisayang Pinay in Italia. Yeah! FP page and, ano, YouTube. Ayan! Sino pa? Mag-shout out siya! Shout out sa mga relatives mo! Ati, tulog sila. Eh, naiiya kayo! Hello! Hello! Hi! 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 Alright! So, first stop na amin, dito. Papasok kami dito sa Castle. ayan papasok Dio's ko ito yung castle na pupuntahin namin yan dyan so dyan kami pupunta at magla line up kami dito ang haba ng pila so we are entering na the castle here so guys ito na we are entering na here in the castle of Prague this is our first stop ayan so napakaganda parang ano din siya eh Barcelona barcelona style na okay so we are walking na inside the castle here so that's at my back and there's really a lot of people coming in oh my god do you need to do this we are walking on the castle here is a place in south to the castle here is a place in northeara in the castle here is the place in天 and here is the place in town the map is in northeara Sì, c'è l'entranzo che è venuto qui dentro del museo. Sì, c'è l'entranzo, c'è l'entranzo, c'è l'entranzo. Sì, c'è l'entranzo. Sì, c'è l'entranzo. 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 C'è l'entranzo.